Monte Silvano e il BC Volley è un feeling che si rinnova e anzi cresce sempre di più. È iniziata oggi una lunga settimana che porterà sui quattro campi allestiti in spiaggia tre tappe dei campionati nazionali. Fino a giovedì spazio all'Under 18 e all'Under 20, da venerdì in pista ai senior. Entrambi i percorsi finiranno a settembre a Bellaria con l'attribuzione dello scudetto di categoria. Domenica invece l'assegnazione della Coppa Italia assoluta maschile e femminile. La presentazione degli appuntamenti questa mattina in comune per la Federvolley sentiamo il presidente del Comitato Abruzzese, Fabio Di Camillo. Quest'anno per la prima volta sarà un appuntamento gold. Che cosa significa intanto gold, presidente? Significa maggior interesse da parte di tutte le coppie, le migliori, sia in campo maschile che femminile, perché c'è anche un risvolto tra virgolette economico, un monte premi di una tappa gold è il doppio, 12.000 euro rispetto ad una tappa normale. Quindi solo tre tappe gold, una di queste a Montesilvano. Siamo molto felici di questo, siamo molto coinvolti nell'organizzazione di questo evento, che anche da un punto di vista dell'impatto scenografico è un altro mondo. Io invito tutti i vostri telespettatori, i nostri concittadini abruzzesi, a venire perché sarà uno spettacolo di altissimo livello. Venerdì, sabato e domenica. Parliamo un po' anche del livello proprio tecnico. Arriveranno le migliori coppie d'Italia? Assolutamente sì. Arriveranno tra l'altro anche grandissimi beecher abruzzesi, sia in campo maschile che femminile. Da Manuel Alfieri che ha vinto la prima tappa gold a Palinuro, mentre ieri la Claudia Scampoli ha vinto un torneo future della FIVB. Quindi abbiamo rappresentanti di punto, abbiamo Cappio Vitelli, un'altra coppia assolutamente competitiva. Non so se ci sarà Paolo Di Silvestre che lamentava qualche problema di tipo fisico. Al femminile avevamo Margherita Tega. Insomma, ci sono tutte ragazze della nazionale. Quindi siamo in questo campo, l'Abruzzo è veramente al top. E tra l'altro come antipasto fino a giovedì ci saranno i ragazzi e le ragazze, i giovani in campo. Sono già sui campi questa mattina, l'Under 18, maschile e femminile. Abbiamo avuto anche lì, è la prima tappa nazionale che si fa a livello di categoria Under, 22 coppie maschili e 15 femminili, quindi numeri di assoluto livello. Particolarmente soddisfatto il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis. Saranno sette giorni a partire da oggi davvero da vivere in maniera intensa. Sì, la cosa bella è che non soltanto a fine settimana ci saranno i più grandi, ma si partirà con i ragazzi, con i più giovani. E quindi la soddisfazione è ancora maggiore perché prendiamo in considerazione, insomma, diamo spazio a tutte le fasce d'età. Lo sport giovanile è qualcosa di davvero importante, al quale noi crediamo e ci fa piacere che il beach volley abbia qui a Montesilvano una tappa così importante dei campionati.